Bene, allora vediamo oggi come leggere i grafici a barre con lo scopo di studiare il contesto per anticipare lo sviluppo di variazioni in mercato più ampie insieme ai large traders. Noi possiamo studiare il comportamento dei large traders leggendo una serie di dettagli che emergono nei grafici. Adesso vediamo i primi dettagli di base che riguardano appunto questa materia. Va bene? Adesso prendiamo la lavagna, ecco qua. Questa è l'infografica che normalmente utilizzo per spiegare gli argomenti di base. Vediamo come funzionano le barre principali e come possiamo utilizzare queste quattro barre principali per confermare o meno la presenza di liquidità a supporto. Quindi per capire se i large traders effettivamente stanno spingendo la liquidità, stanno supportando lo sviluppo di un nuovo trend oppure no. In modo da poter sfruttare un potenziale oppure semplicemente star fermi in attesa di un potenziale. Va bene? Allora la barra più importante che noi dobbiamo studiare è la barra di trend. La barra di trend è la barra che conferma la presenza di liquidità. La barra di trend ha un comportamento ripetitivo facile da individuare. Innanzitutto configura sempre prese di profitto ridotte entro il 33%. Come spiega la teoria di Do, faremo poi un altro video quest'anno, ma c'è il video dell'anno scorso. Come spiega la teoria di Do, un mercato in trend configura sempre, prima di svilupparsi, le prese di profitto ridotte. Quindi se noi leggiamo, misuriamo le prese di profitto, siamo in grado di anticipare un nuovo trend. Ma cosa sono le prese di profitto? Le prese di profitto si sviluppano dopo una fase di trend. Quindi se abbiamo un trend, questo trend si è sviluppato perché c'è liquidità a supporto. Nel momento in cui il segmento di trend giunge all'esaurimento, iniziano le prese di profitto. Quindi vediamo la fase correttiva. Se questa fase correttiva è breve, entro il 33%, entro massimo il 50%, sappiamo che i large trader che hanno supportato lo sviluppo di questo trend non hanno messo all'incasso le posizioni. E se non le hanno messe all'incasso è perché ancora c'è l'interesse a sviluppare questo trend. Se invece rileviamo un crollo delle prese di profitto, capiamo che i large trader che hanno supportato lo sviluppo di questo trend hanno messo all'incasso le posizioni. Questa è la teoria di Doh spiegata in 30 secondi. Va bene? Poi avremo modo di approfondire. Quindi studiando il comportamento delle singole barre di trend, sappiamo che dobbiamo rilevare le prese di profitto che è una condizione assolutamente necessaria perché il mercato la rispetta. Cioè si sviluppa sempre un trend con prese di profitto ridotto, altrimenti non si sviluppa. E poi sappiamo che una barra di trend tende a superare il massimo della barra precedente. Solo il massimo della barra precedente o solo il minimo della barra precedente, a seconda se abbiamo un trend di alzista o di bassista. Qui per esempio abbiamo un trend di alzista, vediamo tre barre di trend. La barra di trend misura prese di profitto prima e poi supera soltanto il massimo della barra precedente. Vedremo perché questa informazione poi ci sarà utile in sede di gestione. Sappiamo anche che le barre di trend lavorano in gruppo, si sviluppano a gruppi di 2 e 3. Un segmento di trend, quindi formato da barra di trend, si forma con 2-3 barre la maggior parte delle volte. Dopodiché conclude la sua tendenza, giunge alla fase di esaurimento e lì iniziano le prese di profitto. Vediamo quindi come funziona la barra di trend e la barra di collasso che è un po' il suo opposto. Una barra di trend che chiude oltre un gruppo di barre che appunto si chiama congestione, conferma la presenza di liquidità a supporto se configura anche prese di profitto ridotte. Quindi barra di trend che chiude a prese di profitto ridotte oltre un gruppo di barre conferma la presenza di liquidità a supporto. Quindi conferma anche la presenza di un potenziale che serve per anticipare un nuovo trend. Se invece la liquidità a supporto non è presente, noi rileviamo prima una variazione di mercato oltre questo gruppo di barre e poi un crollo. Perché avviene questo? Tutto questo avviene per effetto della manipolazione dei large trader che spostano il prezzo oltre questi punti chiave alla ricerca di liquidità, quindi liquidità di altri large trader. Quando le trovano noi rileviamo la chiusura e poi le prese di profitto ridotte. Significa che hanno trovato liquidità e stanno mantenendo le posizioni per supportare ancora lo sviluppo di questo trend. Se invece rileviamo a fine giornata un pivot, sappiamo che hanno tentato di ricercare liquidità, non hanno trovato nessuno presente per supportare lo sviluppo del trend e quindi hanno ritirato poi a fine giornata anche la loro liquidità. E quindi il tentativo si dice che è fallito. Quindi ci ricordiamo in questo modo il comportamento della barra di trend, soprattutto in un contesto di questo tipo, e della barra di collasso. Presenza di liquidità, mancanza di liquidità. Ok? Quindi presenza di un potenziale da sfruttare, mancanza di un potenziale da sfruttare. Ok? Poi andiamo a studiare anche le barre inside, che indicano che la liquidità è ferma, è statica. I lato stradero non stanno costruendo nulla. E poi abbiamo la barra outside, che è una barra complicata, indica che non c'è chiarezza, non c'è direzione. Cioè, diciamo, il comportamento di mercato è più caotico e quando il mercato è caotico dobbiamo stare fuori. Quindi quando vediamo un comportamento outside, siamo sempre fuori dal mercato. Quando vediamo un comportamento inside, determiniamo i confini della barra madre, quindi l'ultima barra di trend disponibile, per capire che cosa stanno facendo i lato stradero. Questo, diciamo, in breve, in estrema sintesi, è quello che c'è da sapere per comprendere un grafico a barre. Poi naturalmente andremo a approfondire, vedremo la struttura delle tendenze, gli schemi di prezzo e come interpretare comportamenti più complessi al mercato per poter anticipare lo sviluppo della liquidità e quindi operare in sinergia con quello che stanno facendo i lato stradero. I lato stradero muovono la maggior parte della liquidità. Quindi noi ci preoccupiamo di capire che cosa stanno facendo in modo da poter seguire quello che fanno anche loro. Se loro supportano lo sviluppo di un trend, noi ci agganciamo insieme a loro e seguiamo quello che loro sviluppano. Se invece sono fermi, siamo fermi anche noi. Va bene? Spero sia tutto chiaro. Rifletteteci e poi ho previsto altri approfondimenti. Va bene? Vi saluto e a presto. Grazie. Grazie. Grazie.